Con il suo mastodontico specchio primario da 39 metri di diametro, l'ILT, l'Extremely Large Telescope, sarà il più grande telescopio mai realizzato al mondo. L'immensa cupola, 80 metri di diametro, completamente rotante, così come la struttura meccanica di supporto del telescopio, sono già in costruzione sulle Ande Cilene, a 3.000 metri di quota, sotto la guida di un consorzio di società italiane. Ma come sta procedendo il progetto? Lo abbiamo chiesto al direttore generale dell'ESO, Javier Barcons. Abbiamo fatto molto buon progetto con questo progetto. Abbiamo fatto un passo molto importante nel sito, in Cerro Armazones, dove il telescopio sarà posizionato. Con il lavoro di Sibel, sta succedendo molto bene, ma anche con molti contratti che abbiamo in Europa per l'industria dell'opto-meccanica, le attuatorze, tutto è iniziato. Abbiamo passato un passo molto importante, in cui abbiamo lasciato tutti i risultati e i design, e stiamo producendo il hardware ora. Puoi iniziare a toccare e sentire cosa sarà l'ELT. Vi attendete che possa sorgere a breve qualche imprevisto difficoltà tecnica? Beh, aspettiamo tutti i prossimi anni, e siamo pronti per questo. e sono molto confidente che abbiamo un team molto capabile di capire queste difficoltà e sono molto confidente che avremo succedere a fine. Dunque, è possibile che il 2025 possa essere confermato come anno della prima luce? Per il tempo, questo è la nostra progettazione. Abbiamo tutto installato per la prima luce tecnica, l'ultimo 2025, che è successo dal commissionamento del telescopio e degli strumenti e per iniziare le operazioni nel 2026 o 2027. Ma ovviamente, questo è un po' di anni e lo vedremo. Un ultimo aggiornamento, sempre su un altro importante contributo italiano a ELT, lo strumento Maori, per il controllo dell'ottica adattiva, come procede? Well, Maori has been suffering some issues, some delays. We're now working together very well with the team, with the Maori team, trying to identify a very solid design. We hope to have a preliminary design review, maybe late next year or early 2021, and then start building it. down in Maori, it's a very important element for the first light capabilities of the ELT. We know it's going to be late, but still it will be a very important feat for the high resolution camera on the ELT. on the screen and that's a very important thing. So, let's get started. So, let's get started.